Ciao, sono Rossella Brescia e voglio denunciare un grave furto avvenuto nel nostro paese. Hanno rubato ai bambini una vita dignitosa. In Italia ci sono tanti bambini che non hanno una casa, non possono fare un pranzo o una cena con regolarità. Una frase che sentiamo dire tante volte dai bambini è «mamma ho fame». Ecco, molti bambini fanno fatica a pronunciarla, perché sin da piccoli hanno la consapevolezza di vivere in povertà, in una povertà assoluta, la stessa che gli nega una vita che ogni bambino dovrebbe fare, cioè una vita di felicità. Sono spariti i servizi sociali, i centri educativi, un bambino su tre è a rischio povertà. Diamo l'allarme tutti insieme, perché rubare il futuro ai bambini significa rubarlo al nostro paese, aderisci insieme a me all'appello di Save the Children, vai su allarmeinfanzia.it e denuncia anche tu il tuo furto di futuro.